benvenuti in affiniti foto in questo video voglio farvi vedere come trasformare un'immagine vedete che a guardarla così non ha davvero nulla di particolare eppure il posto era magnifico era bellissimo per far rendere questa immagine ho pensato di trasformarla in bianco e nero e poi applicare una nitidezza e colgo l'occasione per farvi vedere le tecniche che ho utilizzato io ma soprattutto le differenze di nitidezza da applicare abbiamo tre metodi di nitidezza e voglio farvi vedere come applicare quale metodo e per quale motivo allora chiaramente parto da questa immagine qui e ovviamente intanto il sistema qui in sviluppo trattandosi di un'immagine raw mi trovo in sviluppo un po l'immagine vedo già dall'istogramma che è un'immagine molto piatta mancano le ombre mancano un po le luci ma soprattutto le ombre e dunque penso che andrò a prendermi una curva e andrò a lavorare qui con la curva una creiamo una curva ad esse vedete per riprendere un po di dettagli allora questa la riporto e qui in base qui luminosità abbasso leggermente la luminosità e poi in ombreggiatura qui aumento un po l'ombreggiatura vedete posso ancora poi intervenire eventualmente sulla curva però in linea di massima direi che questo è più o meno il risultato che voglio ottenere qui vedete la curva ad esse ha recuperato i dettagli sono soddisfatta per adesso di questo tipo di impostazioni avete visto che anche l'istogramma è cambiato rispetto a prima abbiamo ancora mancano ancora i neri profondi però direi che possa andare bene così eventualmente basterebbe ridurre leggermente qui l'ombreggiatura però io direi di lasciarla così ok torno in sviluppo persona e adesso qui in sviluppo persona la prima cosa che voglio fare è trasformare l'immagine in bianco e nero perché questa immagine rende per le profondità e qui a parer mio il bianco e nero rende molto e dunque qui nelle regolazioni scelgo bianco e nero allora avendo attivato il bianco e nero io posso con il selezionatore intervenire direttamente guardate riduco un po il blu aumento un po i gialli vedete aumento riduco anche un po il ciano il ciano guardate qui si vede molto notate vedete che qui adesso l'immagine è parecchio contrastata aumento i gialli perché i gialli mi consentono vedete in questa zona qui davanti a creare questo forte contrasto di luce e di ombra e dunque già così direi che è un'ottima soluzione vedete blu e ciano sono quelli che fanno la differenza anche il rosso qui davanti e anche il giallo anzi il giallo lo aumento ancora di più per avere questi forti contrasti chiudo e come vedete il risultato già non è niente male adesso però io vorrei avvicinarmi un po qui ai dettagli questi magari riduciamo un attimo anzi magari prendo questa parte qui e la posiziono così vediamo un po meglio l'insieme dell'immagine andiamo a vedere dove ci troviamo i livelli ecco qui abbiamo i livelli adesso naturalmente su un'immagine come questa vorrei applicare una nitidezza e qui si pone il problema cliccando qui sui filtri live poi vedete che abbiamo tre elementi di nitidezza la chiarezza la maschera di contrasto e accento a passaggio sono tutti uguali no evidentemente non sono uguali e la scelta corretta delle maschere di nitidezza dei filtri anzi di nitidezza importante cominciamo con il primo filtro la chiarezza ok questo è il filtro della chiarezza qui come vedete l'impostazione è questo cursore qui e il metodo di fusione metodo di fusione non ci interessa ci interessa questo questo cursore qui se andiamo a vedere nel dettaglio dov'è che agisce soprattutto non agisce notate bene qui è la zona dove ho più dettagli dunque pietre piccole un po di pietraia però qui guardate incide quasi niente e se noto invece dove incide molto sono le nuvole questo vuol dire che chiarezza lavora meglio su zone più uniforme meno contrastate in effetti è il filtro che usiamo ad esempio sulla pelle perché liscia la pelle la rende più morbida ok tornando indietro ovviamente andando avanti creiamo questo bello effetto di nuvole che su un bianco e nero ovviamente sta bene e dunque attivo il filtro e chiarezza adesso nascondo e andiamo a vedere l'altro filtro il prossimo filtro che è maschera di contrasto mi avvicino di nuovo e questa volta vedrete che la maschera di contrasto agisce contrariamente alla chiarezza sui dettagli infatti lavora sui micro dettagli ed è dunque la maschera molto sottile e lavora bene appunto a livello di micro texture guardate qui posso impostare il raggio e dunque adesso lascio il fattore porto magari il fattore lascio anzi porto il raggio a 1 ok e poi lavoro sul fattore guardate come cambia la nitidezza a livello di dettaglio vedete qui nella montagna anche qua dietro riesce a recuperare tantissimi dettagli dalla montagna mentre sulle nuvole non agisce proprio ok dunque con questo tipo di impostazione lavora benissimo se l'italia potrei fare in modo diverso guardate potrei ridurre il fattore e aumentare il raggio qui diventa una texture più grossolana ok comincia a lavorare in modo più grossi grossolano e diventa quasi simile alla chiarezza perché vedete anche sulle nuvole qui comincio a vederlo ma se voglio una nitidezza a livello di micro dettagli lascio il raggio basso e dunque qui un 1 andava più che bene questo porto appunto a un pixel e qui il fattore lo posso gestire posso anche aumentare leggermente magari però vedete già un magari 1 5 ecco 1 3 1 5 può andare bene e poi qui col fattore regolo il dettaglio e dunque così è perfetto guardate il prima e guardate il dopo decisamente interessante anche nella distanza vedete anche qui dietro la soglia ovviamente indica da che contrasto in poi bisogna partire se aumento la soglia vedete la nitidezza si vede solo sulle pietre che sono più contrastate invece lasciando soglia 0 lavora praticamente su tutto ok l'ultima nitidezza che voglio applicare è il famoso filtro accento a passaggio accento a passaggio intanto bisogna impostare il raggio anche questo lo portiamo intanto a 1 e poi a un metodo di fusione altrimenti rimane tutto grigio voi vedete man mano che aumenta il raggio questi queste linee che vedo sono là dove il filtro attua la nitidezza dunque lavora sul contrasto come vedete posso cambiare metodo di fusione scelgo ad esempio luce lineare e andiamo a vedere qui su tutta l'immagine guardate con un pixel ok guardate si vede sia nei dettagli e si vede anche qui soprattutto nei micro dettagli un po meno man mano che aumento guardate aumenta la quantità di nitidezza a modo di dell'effetto di chiarezza vedete comincio a vederlo anche qui sulle nuvole notate e crea questi forti alloni attorno se porto di nuovo l'impostazione a normale voi vedete questi alloni con le impostazioni di raggio alto si formano si creano e sono piuttosto brutti dunque normalmente con accento a passaggio teniamo valori bassi onde evitare proprio questo tipo di alloni adesso metto di nuovo luce lineare e porto l'impostazione magari a un due pixel ok guardate il prima e il dopo facciamo vedere su tutta l'immagine il prima e il dopo allora che filtro applichiamo io in questo caso sceglierei la chiarezza perché lavora sulle nuvole e poi scelgo maschera di contrasto e che però dove riduco però a uno che direi che è sufficiente e qui posso regolare la quantità di contrasto direi che così è più che adatto proviamo a vedere adesso il prima e il dopo come vedete cambia veramente tantissimo infine è giusto per completare la nostra immagine in questo caso vorrei applicare ancora un bilanciamento colore però solo nelle zone ombreggiate e qui aumento un pochettino il blu poco e poco poco il magenta che già troppo ok guardate adesso l'effetto molto contrastato vedete posso provare infine applicare ancora una leggerissima curva ad esse per aumentare leggermente ancora la drammaticità vedete e voilà il nostro bianco e nero con curva e senza curva vedete il contrasto si vede soprattutto nelle zone luminose delle nuvole qui davanti direi che sta bene ed ecco qui il nostro risultato finale trasformato appunto in bianco e nero che ha la particolarità di essere ben contrastato grazie ai filtri live di nitidezza che abbiamo applicato grazie aiutati 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 aiutati